Villa Ponam, a case San Benedetto, in provincia di Vieti, è uno dei luoghi più amati dagli italiani. A svelarlo è un censimento promosso dal FAI. Tito Kelly. Villa Ponam, costruita agli inizi del Settecento, nella frazione di case San Benedetto, nel comune di Vieti, è uno dei luoghi che gli italiani amano di più. La segnalazione arriva dal censimento promosso dal Fondo per l'Ambiente Italiano. L'immobile di proprietà pubblica venne realizzato dalla famiglia Ponam tra il 1706 e il 1714. È un esemplare di villa barocca più interessante nel comune di Vieti e tra i più rilevanti del Lazio. Nel tempo la villa è stata restaurata, utilizzata e abbandonata. Oggi ha urgente bisogno di interventi di restauro. Alla tutela del patrimonio storico si arriva sempre in ritardo. Si è arrivato in ritardo, ma credo che adesso le cose stiano cambiando. Mi pare che ci sia una percezione nei cittadini dell'importanza di valorizzare e conoscere il proprio patrimonio culturale. Un patrimonio che è di tutti. E Rieti in questo senso è un esempio, perché è una città bellissima, è una città che ha delle ricchezze artistiche straordinarie e il riscoprirle e il valorizzarle potrebbe portare anche sviluppo e turismo. Ricordarsi di salvare l'Italia, perché? È necessaria perché proteggere i segni della propria identità è un modo per poter guardare al futuro con occhi diversi. È difficile guardare avanti se non sappiamo chi siamo. E quello che noi siamo lo si vede in questi monumenti, lo si vede nella nostra storia e lo si vede per esempio camminando per le strade di una città come Rieti. Grazie.